Il passaggio di corrente attraverso i fluidi talvolta genera delle reazioni chimiche. Per esempio, consideriamo un circuito composto da un generatore, una lampadina e due barre metalliche immerse in un fluido collegate ai poli del generatore. Se il fluido è della semplice acqua distillata, la lampadina resta spenta. Se nell'acqua aggiungiamo un sale, un acido oppure una sostanza alcalina, la lampadina si accende. Ciò significa che l'acqua non conduce elettricità, a meno che non sia mescolata ad altre sostanze dette elettroliti. Ma vediamo come ciò accade. Le placche metalliche dette elettrodi, collegate ai poli del generatore, si caricano elettricamente. L'elettrodo carico positivamente si chiama anodo, l'elettrodo carico negativamente si chiama catodo. Il sale, ovvero cloruro di sodio, la cui formula chimica è NaCl, è composto da ioni positivi Na+, e ioni negativi Cl-. Per effetto della trazione degli elettrodi, questi si separano. Questo processo è detto dissociazione elettrolitica. Gli ioni positivi, detti cationi, saranno attratti dall'elettrodo negativo, il catodo. Gli ioni negativi, anioni, si muoveranno verso l'anodo. Dal punto di vista chimico si genera una reazione di ossidoriduzione indotta degli elettrodi. Questo processo per cui la corrente elettrica innesca una reazione chimica è detto elettrolisi e l'insieme di contenitore, soluzione ed elettrodi è chiamato cella elettrolitica.